Ciao a tutti appassionati di anime manga, sono Alex, come sempre un video da seguimi qui su YouTube, su Instagram, su Twitch e anche nel mio gruppo Telegram per stare sempre aggiornati. Tutti i link come sempre li trovate qui sotto in descrizione. Vi ricordo di attivare la campanina per non perdere il mio video e se volete aiutare mi raccomando mettete like, iscrivetevi e condividete perché ci tengo davvero tanto. Oggi andrò a fare la recensione di questa nuova edizione targata J-pop di Ladies No Blood, prezzo 16€. E' uscito anche il cuffanetto che raccoglie tutti e tre i volumi a ovviamente 48€. Un bel cuffanetto devo dire, anche un bel formato, classico formato dei mangaka d'autore perché infatti è disegnato da Kazu Kamimura, di cui ci ho già fatto la playlist, quindi la troverete tutti i video dedicati sulle sue opere e la storia di Kazu Koki, uno dei due autori di Long Wolf and Cub. Quindi andiamo molto ma molto sul sicuro, due mangaka di livello assoluto e questo manga tra l'altro è ispirato Quentin Tarantino per il suo Kill Bill, quindi stiamo parlando di livelli davvero assoluti che finalmente era esaurita da anni e sono riuscita a portare una nuova edizione e finalmente sono riuscita a reperire anch'io Lady Snow Blood. Perché è un manga molto ma molto conosciuto, è un manga dagli anni 70, è un manga storico ambientato nell'era Meiji, non specificato particolarmente che hanno, ma l'era Meiji che va dal 1868 al 1912. Più o meno si intuisce comunque sono circa 1870 e 1890, più o meno sarà in questo ventennio più o meno si può intuire. La nostra protagonista che si fa chiamare Shurayuki Ime, per appunto Snow Blood, quindi Nevi Insanguinata, però Ime vuol dire principessa, non è Lady Plot. Però il nome con cui viene conosciuto all'interno di questo manga e dagli altri è per appunto questo. Questa donna che merita vendetta, cerca vendetta, la vediamo fin da prime apparizioni, lei è questa donna nuda, bellissima, coperta di sangue dei suoi nemici e da chi ha ucciso. Ma tra l'altro non è neanche la sua vendetta ma è quella di sua mamma, quindi già fin da subito scopriamo in che modo è nata. Lei è nata in un carcere femminile, con sua madre colpevole in omicidio, come ha fatto a restare incinta? Questa madre che ha dato la luce, per appunto Shurayuki, per colpa di questa cosa aveva partorito, è morta quasi subito o in pochi giorni e ha trasmesso tutto il rancore, tutto l'odio a questa sua figlia, lei che si è accoppiata come un cane con tutti gli uomini che arrivavano lì, i secondini, i monaci che arrivavano lì proprio per avere una figlia, anzi voleva un figlio per trasmettere la sua vendetta, visto che lei non poteva mai, non poteva più uscire dal carcere quindi mentre lei era un bambino nata, non aveva colpe, un giorno avrebbe potuto uscire, copia su vendetta, vendetta contro chi? contro quattro personaggi o meglio tre perché uno è riuscito a uccidere lei per quello che è andata in galera perché durante la rivolta contro tasse del sangue, una rivolta veramente successa nel 1873 in Giappone contro una tassa, contro una legge che obbligava i ragazzi a diventare soldati, metteva la lega obbligatoria in un periodo che pochi anni prima era già finito una guerra civile in qualche modo e tutti i popoli giapponesi, soprattutto le madri, le mogli non volevano queste e si sono ribellate perché tra l'altro c'era questa digiceria che in realtà prendevano questi ragazzi per tirargli via il sangue con tecniche occidentali visto che arrivavano gli olandesi e gli americani in quel periodo con cure strane potevano far riportare in vita i loro soldati morti anche se ovviamente era una stupidata e c'è questa leggenda che il governo attraverso un nuovo vestito di bianco andava e obbligava gli uomini al servizio militare e quindi quando il marito di sua madre che si chiamava Sayo vestito di bianco al suo primo lavoro, al nuovo lavoro da insegnante viene linciato dalla folla viene linciato però appunto dalla folla perché ritenevano che fosse lui quello mandato dal governo e in particolar modo causato da quattro persone che tra l'altro hanno stuprato pure Sayo e quindi lei si è vendicata con uno di questi quattro che si è invaghito di Sayo ma gli altri tre sono fuggitivi e quindi trasmette tutto il suo rancore a sua figlia questa figlia che vediamo cresciuta con l'unico scopo di uccidere queste tre persone questi personaggi di cui sa solo il nome ma non sa dove siano e quindi vedremo queste avventure lei che comunque fa il sicario di professione quindi per vivere, per mantenersi far quella appunto il sicario è una donna molto sensuale davvero tanto sensuale furba, intelligente, bellissima che tutti gli uomini restano colpiti dalla sua bellezza anche questa bellezza anche la bellezza nei movimenti compugnali questo pugnale che ha questa spada piccola nascosta nel suo ombrello questi movimenti da assassina che colpiscono anche il lettore per la bellezza del tratto in stile Gekika con cui vengono disegnate disegnate tutta l'opera però appunto come ho già accennato tra le prime apparizioni proprio lei nuda questa ragazza nuda coperta di sangue e siccome è stile Gekika oltre alla violenza c'è anche molta parte erotica perché proprio come stile Gekika unisce queste due cose quindi è anche un manga storico spesso lei Shurayuki usa addirittura la legge contro contro chi deve fargliela pagare visto che il suo mandante vuole fargliela pagare ma non è necessario che magari la uccida direttamente lei può fare la legge incastrarla in qualche modo e fa sì che la legge giustizzi questi che vengono accusati in crimine che magari manco hanno fatto anzi senza magari che non hanno fatto e quindi è un manga molto bello molto avvincente è un periodo storico molto turbolento del Giappone i primi anni dell'installazione delle Rameiji finito il bakfu dell'epoca dei Tokugawa ritorno al potere in mano all'imperatore e quindi visto che c'è stato un cambio di potere chiunque alla fine pensava per sé soprattutto chi aveva già i soldi cercava di entrare nelle grazie dell'imperatore e prendersi un posto di rilievo poi erano anni che molta popolazione molta gente odiava gli americani odiava gli occidentali e non li voleva mentre altri invece vedono di buon occhio il fatto che il Giappone incomincia ad apirsi del resto del mondo anche se l'imperatore con la sua classe politica invece voleva diventare una potenza a livello mondiale e riuscire a contrastare le potenze straniere anche queste tematiche le vediamo anche in Kenshin Samurai Vakabondo perché il periodo storico è lo stesso e quindi invito anche a recuperare quel manga anche se quello è uno shonen questo è un seinen questo è molto più cruento molto più forte qua vediamo come quasi tutte le opere di Kamimura una donna protagonista una donna emancipata una donna forte che sa quello che vuole e è disposta a tutto per ottenere quello che vuole e non usa solo semplicemente la forza perché non è prerogativa del genere femminile avere una forza ma con l'astuzza con la sensualità con l'intelligenza e anche con la bravura con l'agilità con la tecnica riesce a a far fuori tutti i nemici che gli vengono incontro questo è detto è un manga tra volumi perché i primi due sono proprio Lady Snowblood e il terzo è Lady Snowblood la rinascita quindi vediamo è il sequel dell'opera principale vediamo che la morte sarà sempre la morte la vendetta la violenza sarà sempre compagni di Shurayuki non la abbandoneranno mai non la lasceranno mai perché è cresciuta così e la porterà sempre da presso è come detto è un manga che bisogna leggere bisogna prendere almeno una volta nella vita assolutamente perché è una tra le opere migliori di Kamimura assolutamente ed è riconosciuta a livello mondiale quindi non si può non prendere soprattutto ti trasmette parecchie emozioni è un manga anche sulla vendetta un po' proprio come Long Wolf and Cub e quindi ci vedo molto anche di Long Wolf and Cub anche se Long Wolf and Cub è inventato nel 1600 quindi 200 anni prima però lei è una ragazza non è un samurai non è neanche una kunoichi è una semplice ragazza che è cresciuta con l'unico scopo della vendetta ma neanche la vendetta sua la cosa proprio che colpisce di più è la vendetta di sua madre che in punto di morte quando l'ha fatta nascere gli ha trasmesso questo rancore che aveva lei e l'ha trasmesso la figlia e anche la figlia vive con questo rancore con la vendetta e non solo vendicarsi come figli ultimi di questi tre ma vendicarsi in qualche modo fargliela pagare a certi uomini che sfruttano il loro potere contro le donne e quindi in qualche modo vediamo un po' una palladina della giustizia su certi racconti su certe storie anche se vive la sua vita solo unicamente per la vendetta però nella rinascita vediamo una Shurayuki diversa più matura che vuole fare una vita nuova cerca una vita nuova ma la violenza gli sarà sempre compagna da qua fino alla fine dei suoi giorni e quindi è molto ma molto bello ripeto e merita sta tanto io vi ringrazio se il video è piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate like noi ci vediamo ai prossimi video ciao